E' morto Ezechia Paolo Reale, esponente di spicco della città a retusea siracusana, avvocato e personaggio politico. L'abbiamo trovato sceso in campo come candidato sindaco nel 2013, dove ha perso il balottaggio con Giancarlo Gherozzo e nuovamente nel 2018, dove si è ritrovato sconfitto dall'attuale sindaco Francesco Italia. Da quando gli ansi vanno alla famiglia di Ezechia Paolo Reale.